Massimiliano Fedriga, perché la Lega Nord ha scelto Vittorio Feltri? Perché vogliamo proporre, abbiamo proposto e abbiamo scelto una persona libera, lontana dagli schemi dei partiti, da presentare non soltanto al Parlamento ma a tutti i cittadini, in modo assolutamente trasparente. Non abbiamo voluto fare i giochetti che hanno fatto altre posizioni, di cercare di mettere in difficoltà PD, Forza Italia o quant'altro, perché pensiamo che le vecchie logiche della politica, basate su giochi nascosti, non vadano più bene al paese e serve a quella trasparenza necessaria che chiedono e vogliono i cittadini. Feltri può rappresentare sicuramente un'immagine e una figura di persona libera, di persona preparata perché in modo approfondito ha seguito i fatti della politica degli ultimi anni e una persona non condizionabile per interessi privati. Quindi la nostra proposta ovviamente la offriamo a tutti, ci auguriamo che anche nelle successive votazioni possa essere apprezzata e possa andare a distruggere quella politica che pensa prima di tutto al proprio interesse, non all'interesse collettivo.